Buongiorno da Fiatio Online, partenza positiva questa mattina per la borsa, il Futsimib in questo momento guadagna lo 0,9% circa, siamo intorno ai 24.250 punti, i prezzi stanno cercando di completare il test a spalle rialzista che si è disegnato qui sul grafico a time frame orario dal minimo del 25 aprile, l'unicline è stata toccata e testata nelle prime ore di contrattazione di oggi, non c'è ancora una rottura netta della linea, andiamo a guardare sulla pagina Facebook di FTA Online lo stesso grafico ma relativo al future, vedete in questo caso l'inclinazione dell'unicline è praticamente orizzontale, quindi più facile da leggere, passa intorno ai 23.900 punti, se dovesse esserci la rottura di area 24.000 verrebbe confermata il completamento della figura, target in quel caso in area 25.000, se invece 23.900 non dovesse tenere ci sarebbe il rischio di vedere ricoperto il rialzista lasciato ieri dai prezzi, quindi praticamente il ritorno in area 23.400 punti, pertanto in questo momento si sta giocando un po' la partita, c'è lotta appunto proprio a ridosso di questa linea, andiamo a vedere quale sarà l'evoluzione. La linea del testa spalle è stata superata invece dal DAX, vedete qui siamo ancora una volta su un grafico a time frame orario, questa più spessa è la linea di demarcazione del testa spalle, vedete anche in questo caso il minimo che inizia la figura è quello del 25 aprile, c'è la possibilità quindi guardando il DAX di assistere al proseguimento del rialzo verso i 14.450 punti che sono il lato alto di questo canale discendente disegnato dai minimi di marzo. E' evidente che i due indici non potranno andare in modo divergente, quindi o viene negato il testa spalle rialzista che abbiamo visto completato sul DAX oppure viene confermato quello che si sta disegnando sul Fuzimib. Se guardiamo però quello che è successo al DAX sembrerebbe più probabile un'evoluzione positiva piuttosto che negativa. Questo è il grafico dell'S&P 500, ieri ha cercato di superare i massimi di metà settimana, quindi l'area 4300 che è questa candela ribassista molto forte, ci sono voluti poi due giorni per recuperarla, se ci dovesse essere la rottura di area 4300 a rialzo avremmo un segnale positivo, ma fino a che siamo sotto quei livelli c'è invece il rischio di vedere ripartire al ribasso le quotazioni. Ieri c'è stato un bel movimento trascinato dai technologici, ma adesso andremo a parlare in dettaglio di questo comparto perché è di grande importanza anche per quello che riguarda la seduta di Erna. Infine uno sguardo al grafico del petrolio, questo è il ETF sul WTI che come simbolo ha crude, l'idea che mi ero fatto era che questa figura contenuta all'interno di queste linee convergenti fosse un triangolo di continuazione, di continuazione della tendenza ribassista precedente, questa mattina però complice anche la debolezza del dollaro che sta rimbalzando dopo una fase di forza molto accentuata, è stata superata anche se per adesso solo marginalmente la parte alta del triangolo, diciamo che fino a che rimaniamo di sotto di area 10 su questo ETF si può continuare a pensare che l'evoluzione prossima sarà al ribasso con il completamento del triangolo, ci sarebbe uno spazio di ribasso significativo anche nell'ordine del 20%, però se area 10 dovesse veniva superata non ci sarebbe più spazio per continuare a credere a questa ipotesi ribassista e si tornerebbe invece a puntare ai massimi del mese scorso. Vi stavo dicendo dell'importanza del comparto tecnologico, oggi andiamo a guardare insieme Amazon, Apple, Intel e Qualcomm, e adesso vi spiegherò anche perché, mentre per quello che riguarda la versione del video è riservata agli utenti Patreon, quindi patreon.com e FTA online, andiamo a guardare STM, Stellantis, Generali e Mediobanca, sul sito di FTA online trovate una sezione premium dove ci sono riportati tutti i nostri servizi a pagamento e c'è anche il link al canale video su Patreon. Visto che siamo qua, volevo ricordarvi che se andate su Google News, quindi andate a cercare semplicemente Google News e andate nelle fonti, qui potete andare nella parte alta della ricerca, andate nelle fonti, cercate FTA online e lo aggiungete, potete fare segui, una volta che vi trovo la fonte potete fare segui, a voi non costa niente, non avete degli inconvenienti anche dal punto di vista di traffico, non è che abbiate delle notifiche in più, a noi ovviamente è una cosa invece che ci aiuta per continuare a crescere soprattutto in termini di visibilità, quindi se lo volete fare ovviamente vi ringrazio. Torniamo alle nostre analisi, prima di passare ai titoli del mercato americano, quelli tecnologici di particolare interesse in questo momento, volevo farvi vedere rapidamente l'indice Russell 2000 che è l'indice dei titoli con la capitalizzazione più bassa del mercato americano che è su un'area di supporto molto importante, siamo sulla base di questa fase laterale, due giorni fa c'è stata la discesa al di sotto del supporto, ieri c'è stato un bel rimbalzo, diciamo che c'è sicuramente una bella lotta intorno a questi 1900 punti. Se il supporto dovesse cedere ci sarebbe il rischio di vedere e proseguire la correzione di tutto il rialzo dai minimi di marzo 2020, notate che i minimi della fase laterale coincino col 38,2% di retracement di tutto il rialzo, quindi si andrebbe con buona probabilità da 1.900 a scendere almeno fino in area 1.700, ovviamente quello che fa Russell è lo specchio di quello che fanno anche gli altri indici principali, quindi dall'S&P 500 al Nasdaq, pertanto questo supporto che però qui è molto ben identificato e da seguire con grande attenzione, anche se ovviamente non si opera direttamente sul Russell o su strumenti correlati, però ecco la cosa interessante che volevo farvi notare è che nella parte alta di questo grafico abbiamo la forza relativa tra il Russell e lo Standard & Poor's 500, quando la curva della forza relativa sale vuol dire che il Russell sovraperforma lo Standard & Poor's 500, viceversa quando scende. Notate che questa curva ha un andamento molto simile a quello dell'indice, quando l'andamento non è simile, come è successo in questa fase, cioè quando il Russell inizia a sottoperformare l'S&P 500 è perché si stanno creando i presupposti per un ribasso della borsa, viceversa quando invece la divergenza, questa divergenza di comportamento tra la forza relativa e l'indice è in direzione opposta, cioè al rialzo potrebbero esserci presupposti per un tentativo di rimbalzo della borsa e vedete che recentemente la linea che sostiene questa fase relativa, che si è sviluppata anche sul grafico dei prezzi, ha una moderata inclinazione positiva, quindi c'è una divergenza rialzista anche se non così netta, fino a che rimarremo sulla forza relativa al di sopra di questa linea, questa situazione potrebbe essere il preludio di un rimbalzo sia della forza relativa che dei prezzi, visto che siamo su un supporto così importante, non trascurerei questa situazione che si sta creando, è presto ovviamente per dire che da questo livello di supporto alle 1.900 ci sia lo spazio per una fase di ripresa, però guardando il grafico di forza relativa avrebbe da essere abbastanza ottimisti, vedremo se questo sarà poi confermato nei fatti, perché vi dicevo che è importante seguire i titoli del mercato statunitense, in particolare i tecnologici, perché in questi giorni sono usciti le lettere mestrali, in generale diciamo che sono state abbastanza miste, quella di Apple ad esempio è stata clamorosamente buona, però il titolo nel pre-market oggi sta scendendo, questo perché le prospettive per il prossimo trimestre annunciate dalla società non sono particolarmente brillanti, c'è il rischio quindi che il rimbalzo che abbiamo visto ieri, in particolare sul Nasdaq, possa essere riassorbito, infatti non solo Apple che ieri aveva chiuso come vedete con questa candela bianca nettamente positiva, in questo momento nel pre-market è in calo, ma anche tutti gli altri titoli, ad esempio Qualcomm che ieri ha messo a segno un deciso rialzo nel pre-market sta cedendo qualcosa, questo rialzo di ieri di Qualcomm accompagnato da volumi veramente molto elevati però in questo momento sembrerebbe che non ci sia un seguito, vedremo poi dopo l'apertura come si comporteranno i prezzi. La stessa cosa la vediamo anche su Intel, anche in questo caso c'è una discesa nel pre-market del 3%, ma il più preoccupante di tutti è Amazon che scende dell'8,5% circa nel pre-market, ieri era tornato in area 2009, quindi c'era stato un tentativo di rimbalzo, ma oggi siamo nuovamente scesi intorno a area 2,640 e 2,650, quindi si rischia di vedere violata la base, cerchiamo di capire nella seduta di oggi cosa succede effettivamente, ma si rischia di vedere violata la base di questa fase laterale, se ciò dovesse accadere avremo una situazione dove abbiamo visto una prima fase di discesa, una correzione successiva in tre segmenti che ha ritracciato il 61,8% circa della discesa precedente e se dovessimo vedere i prezzi del sotto il 2007 confermati anche nella seduta di oggi ci sarebbe il rischio di assistere a una nuova fase calante con un target che è almeno sulla base di questo canale, quindi ci sarebbe l'obiettivo per Amazon intorno ai 2.400-2.450 dollari. La stessa cosa la possiamo dire anche su Apple, anche qui abbiamo visto una prima fase di correzione, un rimbalzo che non ha fatto registrare nuovi massimi, è partita poi una nuova fase calante, è vero che ieri c'è stata una bella reazione, il giorno prima era comparsa questa candela inverte dammer, quindi una bella candela rialzista, molto simile a quella che era comparsa su questo minimo, però per adesso non è stato cancellato il rischio che come abbiamo visto nel caso di Amazon, anche qui ci sia da completare una nuova fase ribassista, quindi diciamo che un po' tutti questi titoli danno la stessa sensazione, cioè che ci sia stata una prima fase di ripiegamento e che ne manchi ora una ulteriore dopo la correzione che abbiamo visto nelle ultime settimane. Un po' diverso è il caso di Intel che invece sta scendendo ormai da più di un anno, si è disegnata questa fase laterale anche su Intel, il supporto è quello di area 45, se dovessimo scendere sotto quei livelli con una conferma in chiusura di seduta ci sarebbe il rischio di vedere riprendere la fase negativa, se invece i prezzi dovessero rimbalzare come hanno già fatto ieri da questi livelli ci sarebbe una possibilità per una reazione un pochino più consistente, fermo restando che per interrompere la tendenza ribassista i prezzi dovranno poi salire almeno di sopra di area 51,51,50. Qualcom è da seguire con attenzione, anche qui c'è stata una prima fase negativa, abbiamo visto i prezzi disegnare questo doppio massimo, poi è partita una fase negativa, rispetto ai minimi di marzo del 2020 siamo arrivati più o meno sul 50% di ritracciamento, quindi la reazione che si è sviluppata che abbiamo visto ieri potrebbe anche essere credibile, nel senso che una volta raggiunto il 50% di ritracciamento una ripresa dei prezzi, anche duratura non è da escludere, però anche qui il fatto che già oggi dopo la reazione di ieri si rischi di andare a disegnare una fase negativa, qualche dubbio sulla qualità di questo rimbalzo la fa venire, andremo a guardare oggi come si muove in realtà poi il titolo nel corso della seduta di borsa, certo se dovessimo salire al di sopra dei massimi ieri a 151,20 sarebbe un segnale incoraggiante, in caso contrario anche qui c'è da temere la ripresa del trend ribassista. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero.